In una fresca mattinata di giugno con Antonio Andreucci, tecnico dell'Union Claudiense, perché sottolineo una fresca mattinata, perché l'effervescenza è notevolissima, abbiamo appena presentato Graziano Agliu, il primo grande regalo del Presidente, anche se conosciamo naturalmente il valore di coloro che vengono riconfermati e di coloro che hanno salutato la squadra quest'anno, però credo sia un top player. No, ma sicuramente io devo ringraziare la società perché è il Presidente, il Direttore che hanno lavorato per portare qua a Graziano perché è un giocatore che sicuramente di grande spessore, sia tecnico che umano, per cui è un giocatore che io conosco bene perché ho allenato due anni e sono convinto che potrà fare la fortuna e potrà anche entrare presto nel cuore dei nostri diffusi. Senti, ci possiamo sbilanciare nel Direttore che piano piano stai cercando appunto di plasmare quella che diventerà assolutamente la tua formazione? Sicuramente bisogna partire dai ragazzi, da un gruppo già solido che era l'anno scorso e inserire quei giocatori che possano portare del valore aggiunto al nostro contesto, sicuramente Graziano noi questi. Io so che state seguendo molto l'aspetto dei giovani, quindi ci dobbiamo aspettare, immagino nelle prossime settimane anche qualche importante nuovo acquisto per quello che riguarda appunto il reparto degli under. Certamente, perché il 2004 vanno presi e lì non si può sbagliare, bisogna avere dei giocatori che siano pronti a sostenere un certo tipo di campionato, per cui il nostro impegno è rivolto anche e soprattutto in questo momento a questo. Grazie Antonio, vogliamo ricordare agli ascoltatori la prima data importante, il raduno. Il raduno sarà il 25 di luglio, il 25 di luglio comincerà la preparazione. Grazie. Grazie.